Hai una storia particolare, buffa o curiosa legata al tuo animale da compagnia attuale o di un tempo? Ti piacerebbe vederla raccontata in un programma televisivo? Invia a info-runshop.it una tua foto, quella del tuo animale e scrivici qual è stata la tua esperienza. Le storie più interessanti e singolari saranno scelte per essere raccontate nel nostro nuovo format televisivo dedicato all'incredibile legame tra te e il tuo animale da compagnia. Non sei tu il protagonista, ma conosci qualcuno che ha una storia da raccontare? Condividi questo video e rendilo partecipe del progetto. Per maggiori info e dettagli, leggi il regolamento in descrizione.